Benvenuti, benvenuti di nuovo qui su MTI, quest'oggi abbiamo un ospite incredibile per una discussione incredibile. Nata nell'ambito della fantascienza, nel gruppo di Telegram di Fantascientificast, parleremo di generi non binari nella sessualità. Ma prima di tutto questo, sigla! E eccoci, qua in diretta con la nostra Viper Verusca, direttamente da Fantascientificast, che ci parlerà un attimo di questi generi non binari. Allora, io lo dico, questa discussione è nata perché in Star Trek ci sono vantati, in quest'ultima stagione di Discovery, di aver inserito anche un personaggio non binario. Io, essendo un maschio eterosessuale di qualsiasi altro, non ne capisco assolutamente nulla di queste cose. Per piacere, illuminami, perché è un mondo a me totalmente sconosciuto, come tanti altri che ho visto nella lista, tra l'altro. Ok, allora, in realtà la situazione è abbastanza semplice. Diciamo che, ops, ecco ho spostato chiaramente il computer. Allora, fondamentalmente io faccio ovviamente delle enormi semplificazioni sulla discussione, sulla situazione e tutto, perché altrimenti se poi si vuole entrare nel dettaglio non se ne esce vivi. Quindi teniamo presente che quello che noi stiamo vedendo è chiaramente la versione, diciamo, per principianti delle varie definizioni. Io partirei con quello fondamentalmente che ci hanno insegnato a scuola. Ma prima, aspetta, ti interrompo. Perché ho chiamato te a parlarne di questo, Veruska? Accennami un attimo al perché io ho scelto tra le tante persone qualcuna come te. Allora, io è da circa metà degli anni 90 che comunque o frequento l'ambiente LGBTQIA, eccetera, o comunque faccio attivismo, o comunque ci lavoro. Quindi in ogni caso sono 25 anni che sono all'interno di, chiamiamola, di una scena che quindi, bene o male, ho studiato anche da un punto di vista universitario, per cui credo di poterla conoscere a sufficienza da poter dare quantomeno delle lezioni super mega basic all'uopo, diciamo. Bene, bene, bene. Molto, molto bene. Io stavo andando intanto a trovare, come mai, l'unico mio esempio di, come si chiama, ecco, di avvicinamento alla parte LGBT di questo mondo perché un anno, adesso lo faccio direttamente vedere, dove è? Eccolo qua. Vi faccio vedere l'unico mio racconto che ho scritto nel 2016, anzi un po' prima, che ha partecipato a un concorso per un arci gay a Verona, addirittura piazzandosi ben quarto su nove che hanno partecipato. Quindi, è così, è disponibile sul mio sito, se lo volete leggere, è veramente molto rapido e semplice, ma è giusto una piccola mia parentesi su tutta questa cosa che vi fa ancora di più capire, che proprio non ne capisco nulla. Comunque, grazie a Verlusca di essere qua e adesso apro le tue slide, così puoi iniziare. Vabbè, però noi apprezziamo l'impegno del racconto, come dire, ha richiesto un minimo di studio. Allora, questo è chiaramente la base, nel senso su questo ci siamo tutti e non crea alcuna difficoltà, nel senso il sesso sono appunto i maschi e le femmine, quindi gli uomini e le donne, il maschio è XY, la donna è XX, si può dire che appunto la donna produce gli ovuli e il maschio produce gli spermatozoi, e queste sono le cose che ci hanno insegnato a scuola. Quindi, diciamo, maschietti femminucce, api e fiorellini ce li abbiamo tutte. Poi, è chiaro che chiaramente appunto ci sono, oltre a queste caratteristiche, le caratteristiche diciamo appunto sessuali primarie e secondarie, e è vero che esistono delle anomalie genetiche che appunto noi non affronteremo, anche perché servirebbe comunque una persona specializzata, proprio che ha fatto degli studi in campo. resta comunque che queste anomalie genetiche sono, rientrano comunque nella minoranza, per cui siccome noi stiamo facendo ovviamente un discorso che riguarda la maggioranza, lavoreremo per grandi generalizzazioni. Quindi appunto uomini da una parte, donne dall'altra, proprio da un punto di vista biologico. Su questo direi che stiamo, che tutto è chiaro. Ci sono, ci sono. Ci siamo. Ok, quindi, seconda slide, parliamo un istante delle persone intersessuali, eccole qui. Allora, la popolazione intersessuale è per l'appunto una minoranza, come possiamo vedere. Allora, io ho trovato delle statistiche che mi danno tra lo 0,05% e l'1,7% della popolazione, quindi anche queste statistiche sono, come dire, un po', come dire, sono studi relativamente recenti, mettiamola così, non hanno ancora ben chiaro poi il quadro della situazione. Questo perché? Perché le caratteristiche sessuali, quindi diciamo morfologiche, l'apparenza delle persone intersessuali, non corrispondono, a livello proprio di genitali, nell'aspetto, a quelli standard. Quindi, solitamente arrivavano, che ne so, il bambino, il neonato, proprio super mega micropenico, diciamo così, o la bambina con dei genitali che non erano, che non rispondevano perfettamente alla norma, e la cosa che facevano i medici era appena possibile, tra virgolette, risistemare lì. Questo comunque, alla fine, creava, poi si è visto, dei problemi su quando crescevano questi bambini, per cui adesso non è una campagna, diciamo, la tendenza, la posizione è di evitare di operare subito su questi bambini, in modo che magari crescono e decidono loro in che, se vogliono essere operati o meno, e soprattutto come vogliono che l'operazione venga svolta. Quindi, fondamentalmente, quelle che venivano fatte e che a tuttora vengono fatte, sono delle mutilazioni genitali su persone che comunque sono, diciamo, operazioni non necessarie. Ne parliamo un istante per il semplice fatto che poi le persone intersessuali fanno parte di quello che viene chiamato il magico mondo dell'alfabeto delle letterine LGBTQIA, eccetera, eccetera, su cui torneremo un istante dopo. Comunque, facciamo appunto il momento sensibilizzazione, le persone intersessuali sono persone normali e, come dire, non si meritano una mutilazione genitale nell'infanzia, semplicemente perché non corrispondono a delle caratteristiche standard di loro genitali. Sì, sì, è una situazione anche abbastanza complessa da gestire, proprio perché è veramente minima la percentuale di casi in cui si verifica, quindi penso ai genitori che non siano minimamente preparati a una cosa del genere. No, infatti, da un lato non c'è informazione, dall'altro c'è chiaramente subito appunto una fortissima ansia, voler avere il figlio normale, per cui invece di aspettare che questo bambino cresca, o che questa bambina cresca, insomma, sì, appunto la medicina tendeva ad andarci subito di bisturi. Però effettivamente ci sono stati dei casi di magari bambini trasformati in bambine perché era più facile, che poi si è scoperto nell'adolescenza si sentivano in realtà più bambini, quindi in realtà l'operazione di coltello è stata fatta creando poi dei danni successivamente. Per questo adesso si cerca di evitare. Passiamo alla slide successiva, questa bellissima orientamento sessuale. Allora, anche questo è in realtà come... Allora, quello che vedete è la scala Kinsey di base, che è una scala... Questa qui va dall'eterosessuale all'omosessuale, questa qui, giusto? Esatto, sì, per cui la cosa anche qui, diciamo di solito si pensa che c'è da un lato l'eterosessuale e da un lato l'omosessuale. In realtà è più, se vogliamo, una linea, nel senso da un lato c'è l'eterosessuale di ferro, per cui l'uomo a cui piacciono solo le donne o la donna a cui piacciono solo gli uomini, dall'altro c'è l'omosessuale, quindi l'uomo a cui piacciono solo gli uomini o la donna a cui piacciono solo le donne, ma in mezzo poi ci sono praticamente una serie di persone che possono essere, tra virgolette, molto eterosessuali, ma possono fare delle velate eccezioni. Per esempio, io ho dei conoscenti che dicono no, io donna e solo donne, esclusivamente donne. Certo, se mi capita Chris Hemsworth, ci posso pensare. Oppure ho delle amiche che dicono uomini, solo uomini, esclusivamente uomini, però se mi capita schindersi gli smashing pumpkins, allora no. Io ho degli amici più penali che mi dicono donne e solo donne, però se mi danno un milione di euro, magari anche quello. Anche quello diciamo, però richiede comunque una certa flessibilità, vuol dire che comunque un minimo, diciamo, ti puoi adattare. Esatto. E quindi praticamente in mezzo a questi due estremi, che sono stati, i numeri che utilizzati sono stati 0 e 6, ma in realtà non sono numeri di valore che indicano che l'olettrosessuale vale 0 e l'omosessuale vale 6, sono semplicemente per indicare dei numeri sulla scala. Diciamo, in mezzo c'è appunto il mondo dei bisessuali o dei pansessuali, cioè le persone che comunque dicono ma sì, appunto, per me va bene un uomo oppure una donna a seconda della persona che mi piace, in vari, diciamo appunto, in vari livelli. Nel senso, so, preferisco gli uomini, però faccio eccezioni per alcune donne, preferisco le donne, faccio eccezioni per alcuni uomini, oppure, ma sì, diciamo, mi va bene... E il classico do coio coio dove si mette? Esatto, il classico do coio coio, il famoso tre, nel senso, appunto, al centro perfetto, il famoso un uomo o una donna, un uomo o una donna, si colloca lì, nel senso che comunque quello che a te interessa è quella persona nello specifico e non ti interessa, appunto, se sia un uomo o una donna. E abbiamo, per appunto, degli esempi che ho fatto nel... Che ho fatto... Che ho fatto vedere, ecco. Esatto, per cui abbiamo, per esempio, Giazia Dax di DSNO, di Deep Space Nine, di Star Trek, che comunque è un personaggio che io... Pansessuale, nel senso che comunque è Giazia. Allora, in questo caso, Basha, quella che è una donna, poi vabbè, per chi non segue Star Trek, la cosa è complessa, perché questa era l'ex moglie della precedente incarnazione di Giazia, quando era un uomo, ma... È un po' complessa la situazione tra simbionti e via dicendo di Star Trek, quindi non addentriamoci. Non addentriamoci, però c'è da dire che da questo punto di vista DS9, poi ci torniamo dopo, era infinitamente più avanti di Discovery per tante cose. Per esempio, Willow di Buffy, anche un personaggio che prima aveva il fidanzato, poi ha una fidanzata. DC Legends of Tomorrow ha una vasta rappresentazione di personaggi bisessuali, praticamente, addirittura in The Exorcist, che avrebbe dovuto essere, oddio, una cosa religiosa, in realtà poi padre Marcus è tranquillamente bisessuale, praticamente. Ah, giusto, faccio vedere i griffini adesso. Sì, e poi, sì, allora, poi ci sono praticamente le persone, in questo caso praticamente, oddio, non mi ricordo mai il nome dell'ex padre di Quagmire, comunque... Sì, Quagmire, sì. Quagmire, esatto. E allora, in questo caso stiamo parlando di una persona transessuale, quindi ci arriviamo tra un attimo. Ok. Ma parliamo di Todd Chavez, di Bojackowski. Arrivo, eccolo qua, Todd Chavez. Ecco qua. Che è invece una persona sessuale. Le persone sessuali sono quelle a cui fondamentalmente il sesso interessa poco, proprio nel senso, no, guarda, non è il mio magico mondo, oppure, o niente. Per cui uno può dire, guarda, non mi interessa il sesso, oppure mi interessa in determinate circostanze, nel senso, solo se trovo una persona che amo, come in diversi tempi si sarebbe detto i romanticoni. Mentre adesso praticamente sono, diciamo, si chiamano persone demisessuali, cioè persone che appunto, solo in alcuni casi, sono interessate al sesso, oppure proprio quelli che dicono, no, guarda, no, il sesso non mi interessa, ciao. E Todd fa parte di quest'ultima categoria. Io intanto stavo morendo lentamente. Qui sì, sì, ti auguro. Abbiamo fatto tutta di nulla. Quindi, vabbè. Lo spettacolo deve continuare. Sì, sì, the show must go on. Esatto. Io continuo a spiegare. Stavo guardando, se mi avevi lasciato degli altri, allora, vabbè, questo è proprio omosessuale, omosessuale, questo. Esatto. Che viene da Discovery. Sempre da Discovery, appunto sono Stamez e Kalberg, che sono l'ingegnere dei funghetti, detto volgarmente, e il dottore. E poi abbiamo, dovresti avere anche, esatto, Amanita e Nomi di Sense8, che appunto sono in una relazione lesbica, e oltre a Nomi è una donna transessuale. Dopodiché abbiamo altri personaggi, ne ho presi soltanto alcuni a caso, perché comunque ce ne sono abbastanza. Sì, diciamo che cinematograficamente parlando, negli ultimi 20 anni, 25 anni, si è ampliato molto questo spettro nella TV, quindi io mi ritrovo appunto a vedere dei giovani ragazzi, che non hanno minimamente il problema, che poi magari potevamo avere noi da giovani, nel trovarsi un attimo spaesati, dal conoscere, da avere come amici, delle persone che sessualmente non rappresentavano quelli che erano gli stereotipi iniziali, quindi l'uomo e la donna. Io me lo ricordo che comunque all'inizio si era un attimo un po' impreparati, diciamo, a questa cosa. Poi non c'era alcun problema, però sul momento ti lascia un attimo di... Sì, chiaramente non giravano informazioni, non c'era internet, come si dice, e quindi il mondo era un attimino più, se vuoi, lento a ottenerle. E quindi sì, c'erano comunque delle situazioni di spaesamento. Io passerei un istante quindi alla tabellina, la terrificante tabellina, che però giuro non fa male, che però riassume un attimo quello che abbiamo detto finora, quindi appunto abbiamo detto che esiste il sesso, quindi gli uomini e le donne, e gli orientamenti sessuali. Quindi chiaramente appunto puoi avere un uomo eterosessuale, una donna eterosessuale, cioè un uomo a cui piacciono le donne, una donna a cui piacciono gli uomini, una persona bisessuale, che quindi appunto può essere interessata sia agli uomini che alle donne, gli omosessuali, che sono appunto uomini a cui piacciono gli uomini, e donne a cui piacciono le donne. Quindi in dubbio potete consultare una lagevole tabellina, che vi può aiutare praticamente a ricordare il tutto. Adesso arriviamo alla cosa che è un po' più complessa, anche perché diciamo a livello di discorso pubblico si è iniziato a parlare di questa cosa relativamente di recente, quindi è quella che tende a mettere un po' più in crisi. Allora, quando parliamo di genere di base parliamo un po' di stereotipi, nel senso c'è questa idea che se una nasce donna, quindi appunto hai davanti una bambina, le comprerai la bambola, la vestirai di rosa, da grande le piaceranno bambini, gattini, cagnolini, avrà un fortissimo istinto materno, strillerà se vede un topo, e tutte queste genere di cose. Il maschietto lo vestiremo di azzurro, gli compreremo il camion, le costruzioni, ci aspetteremo che non pianga, che non esprima sentimenti, che sia forte, coraggioso, e che non sappia stirare. Queste sono, diciamo, delle caratteristiche che vengono considerate purtroppo naturali, quindi vedi un bambino e tu pensi che il bambino da grande sarà forte, coraggioso e voglia fare il pompiere, e vedi una bambina e pensi che da grande vorrà fare la madre di famiglia. in realtà sono costruzioni sociali, cioè è qualcosa che viene assegnato dalla società al sesso biologico, non so se mi sto spiegando. Ci sono dei sovracostrutti della persona, esatto? Esatto, sono fondamentalmente decostrutti. La società decide che tu devi comportarti in un certo modo perché sei nato con un certo sesso e tu a furia di sentirtelo dire pensi che sia una cosa naturale. In realtà non è assolutamente una cosa naturale, qui viene fuori la sociologa, è una costruzione e quindi come tale reale all'interno di un contesto sociale ma non reale da un punto di vista oggettivo perché abbiamo tutti comunque l'amico che vede il film Disney e si mette a piangere e che ha paura dei ragni e l'amica che appunto non ama i bambini, non ama i cagnolini e va a fare kickboxing. Non so se mi spiego come dire per smontare un po' questi stereotipi. Per cui appunto diciamo una delle cose più tipiche che gli uomini si vestano d'azzurro e le donne di rosa è qualcosa di talmente costruito che se noi prendiamo addirittura dei vecchi romanzi infatti qui ho citato l'uomo della sabbia di Hoffman noteremo che precedentemente l'azzurro veniva considerato invece il colore delle femminucce perché veniva considerato il colore delle creature miti e un colore che calmava. Infatti devo stare appunto dicendo che mi sembrava di ricordarmi che negli anni 20 anni 30 fosse rosa un colore per i maschietti e il blu invece per le per le femminucce. Per le femminucce. Esatto quindi come dire in realtà tu porti molto bene i tuoi cento e passa anni perché ti ricordi come erano gli anni vedi. Quando ero ciovane io comunque sì in realtà questa inversione di colori c'è stata relativamente pochissimo tempo fa però se tu parli con la gente ti dice no ma è naturale tu fai no non è naturale è un'invenzione assegnare assegnare il colore a un sesso di una persona è ovviamente dato da una società tanto più che credo che non mi sono tanto ben informato a riguardo ma credo che in Asia sia questa cosa dei colori non sia tanto diffusa come noi in occidente quindi eh quello non te lo saprei dire anche perché avendo fatto antropologia ti potrei tirare fuori delle cose tipo nelle isole Trobriand quindi cominciamo a fare degli esempi che sono un po' fuori dal nostro diciamo dal nostro contesto andiamo un po' off topic sì 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 però sono comunque appunto tutte idee per cui se parli con una donna difficilmente ti dirà oh ma che bello stirare io ho sempre sognato passare la vita a stirare credo che nessuna persona al mondo dica io voglio nella mia vita stirare poi ovviamente ci sarà qualche eccezione però comunque ritornando qua al genere ovviamente metti attenzione sotto perché sesso orientamento sessuale e genere sono tre elementi differenti in ogni persona quindi esatto nel senso che come abbiamo visto appunto precedentemente dalla nostra tabellina avremo appunto il sesso l'orientamento sessuale e poi appunto questo genere e c'è un po' questa confusione per cui ad esempio l'uomo sessuale in quanto l'uomo gay diciamo siccome gli piacciono gli uomini c'è addirittura questo stereotipo folle che è necessariamente effeminato per cui gli piaceranno appunto il rosa e le bambole chiaramente in questo caso c'è una tale confusione che viene fatta nella mente di chi ha queste idee tra appunto il sesso l'orientamento sessuale di una persona e questi stereotipi perché appunto come esiste sicuramente il gay a cui piace il rosa e a cui piace stirare che troviamolo così faccio stirare i nostri panni c'è anche praticamente il gay palestrato cioè il gay è semplicemente un uomo a cui piacciono gli uomini quindi avrà tutte le caratteristiche di una persona normale può essere palestrato come può non esserlo quindi può avere la barba come può non averla esatto far lavorare come impiegato come veterinario quindi un po' quest'idea io passo avanti direttamente la parte di transgender ok così per arriviamo a Star Trek esatto esatto perché ovviamente come ho detto all'inizio è partito tutto da una discussione su questo gruppo di fantascientificast in cui è venuto fuori che in Star Trek Discovery hanno inserito questo personaggio non binario ok perché c'erano già visti quelli omosessuali lesbiche in tutti gli anni e quindi stavolta per quale motivo l'avranno scelto ce lo spieghi tu così sì allora io allora l'ho inserito in realtà due personaggi uno transgender che si chiama Grey e un personaggio non binario il cui nome mi elude perché ormai ho le cellule di memoria che non le abbiamo perso un po' tutti esatto allora secondo me Star Trek sta un po' da questo punto di vista opinione mia però sta un po' giocando alla checklist nel senso nel tentativo poi di catturare il pubblico giovane di sinistra diciamo sta mettendo tutta una serie di personaggi che secondo loro attirano quel determinato tipo di pubblico però secondo me lo sta facendo in un modo un po' poco intelligente perché lo sta facendo veramente tipo questo ce l'abbiamo questo ce l'abbiamo questo ce l'abbiamo ma guarda io se posso dire secondo me non è solo Star Trek è tanta della cinematografia americana di questo periodo che pur di non trovarsi ad avere delle polemiche da parte di una qualche minoranza di qualche genere li vuole mettere dentro tutti per togliersi questo sgravo di problemi che io guarda sono d'accordissimo nella parità dei generi di tutti i tipi però se tu stai raccontando una storia e un personaggio transgender non c'entra niente con tutto il bene che io gli voglio vai solo a rendere la storia ancora peggiore capito stai a peggiorare una situazione vabbè mio personale parere no no fallo fanno il problema è che viene fatto male come dici tu cioè viene fatto in modalità checklist e tu fai va bene ma magari cerchiamo di lavorare di creare delle storie in modo che non sembra che appunto sia una una lista di spunta ma che appunto si crei una storia intorno pratica in cui questo personaggio può avere un ruolo diciamo può non deve stare lì a fare ciao io sono quello che rappresenta anche perché come abbiamo visto già sia Dax questa qui già sia Dax stiamo parlando di fine anni 90 cioè quindi parliamo di 23 24 anni fa una cosa del genere in tv capito quindi Star Trek che sia stato che sia stato il famoso primo bacio lesbico della tv penso anch'io secondo me sì e stavo appunto pensando che Star Trek comunque nei vari anni è sempre stato avanti non solo mostrando questo qui come primo bacio ma anche nella storia cercando altri tipi di rappresentazioni per parlare appunto di razzismo di non accettazione del diverso e via dicendo ma questo è un discorso un po' più ampio legato a Star Trek e andiamo a Topic anche qua quindi ritorniamo pure su questo argomento esatto tanto poi su DS9 ci torniamo un attimo allora abbiamo detto quindi allora sesso orientamento sessuale genere ok tre elementi adesso parliamo all'istante del transgender allora transgender al momento è un termine ombrello quindi fai conto un insieme che contiene diversi sotto insiemi allora quello diciamo su cui il termine su cui sono tutti più il termine che conoscono tutti meglio è il termine transessuale quindi una persona che interviene sul proprio corpo con ormoni e con operazioni in modo da ottenere diciamo si dice transessionare da un sesso all'altro comunemente quindi in modo che ne so che se sei uomo passi appunto donna e se sei donna passi uomo questo è diciamo l'aspetto più quello che conosciamo tutti la cosa su cui bisogna fare attenzione quindi momento pubblicità progresso e lo dico perché vedo spesso questo errore è chiamare e rivolgersi alla persona con il pronome sbagliato nel senso se il tuo amico Giovanni tu non lo vedi per sei mesi e poi lo rincontri ed è Mariella tu non dirai lui è Mariella ma dirai lei è Mariella quindi quello che conta è il sesso di destinazione il pronome che si applica al sesso destinazione se la tua amica Francesca anche lì sparisce per un anno oppure ti dice guarda io voglio diventare un uomo a quel punto e voglio diventare Francesco tu a quel punto dirai lui è Francesco quindi è una trans se passi da uomo a donna un trans se passi da donna a uomo ecco questa è una cosa che segniamocela perché spesso sui giornali si trova si trova questo errore ed è una cosa comunque oggettivamente offensiva poi vabbè insomma voglio dire non troverai gli esaltati che si offendano per qualunque cosa come in tutti come in tutti i mondi insomma ma quello è un altro discorso però mediamente questa è oggettivamente una cosa offensiva perché insomma stai stai negando il fatto che questa persona vuole essere chiamata in un certo modo comunque queste sono le persone transessuali e su queste anche ci dovremmo essere più o meno tutti allora transgender che è appunto il famoso personaggio di Grey in Discovery è la persona che non si identifica con il genere quindi non con il sesso quindi non stiamo parlando diciamo tanto di corpo ma stiamo parlando di stereotipi quindi quello che abbiamo detto prima le donne amano in rosa amano stirare bla bla quindi la persona transgender non si identifica con praticamente queste caratteristiche di genere che vengono applicate sovraimposte al suo sesso biologico cosa vuol dire che quindi preferiranno magari utilizzare del diciamo possono intervenire o meno sul proprio corpo quindi per esempio possono decidere di prendere ormoni o meno possono decidere di fare alcune operazioni o meno ma comunque a prescindere da questo ti chiederanno per esempio di utilizzare un pronome che corrisponde al genere al quale si sentono più affini quindi comunque per esempio se è una persona un ragazzo ti dirà guarda preferisco che comunque usi con me dei pronomi femminili e troverai questo ragazzo che magari decide di mettere lo smalto truccarsi che ne so indossare la gonna insomma quindi comportarsi tra virgolette in un modo che corrisponde di più a quello del sesso a cui si sente appartenere non tanto al sesso proprio al genere questa è proprio la definizione è lì che appunto diventa difficile perché appunto il sesso è comunque una cosa che riguarda proprio il corpo diciamo se vogliamo mentre il genere riguarda più appunto queste caratteristiche che noi attribuiamo penso sempre appunto alla bambina vestita di rosa e al bambino vestito di azzurro e ci siamo e quindi Grey di Discovery sarà un personaggio transgender come gestiranno la cosa noi questo ancora non lo possiamo sapere perché la bella notizia è arrivata la settimana scorsa le persone non binari o gender queer come ecco mi ero segnata qui il nome Adira o Adira anche qui non lo sappiamo di Discovery non si identificano in nessuno dei due generi quindi vuol dire che praticamente possono anche loro decidere di intervenire sul proprio corpo o meno per esempio c'è una delle delle attrici o attori perché appunto non identificiamo di Sabrina che per esempio dice di essere non binari si dichiara non binari si è fatta fare la mastectomia quindi ha fatto togliere il seno e qui iniziamo con il problema dei pronomi che in Italia è catastrofico credo che sia impossibile la gestione dei pronomi in italiano esatto perché praticamente le persone non binari possono chiedere o di utilizzare un pronome a scelta che può essere maschile o femminile o di utilizzare quello che in inglese è il dei che per loro sarebbe il singolare indefinito che per noi non c'è perché noi avendo perso il latino abbiamo perso il neutro e quindi abbiamo perso nella nostra lingua qualunque possibilità di avere un pronome neutro quindi come questo che invece in inglese è il dei che può essere sia utilizzato per indicare loro come da noi oppure utilizzato come un singolare che è maschio o femmina non si sa come verrà tradotto in italiano dovremmo chiedere a Flora come si comporterebbe un traduttore davanti a una sfida del genere perché non è di poco conto secondo me infatti sarà parecchio problematico perché come si muovono si muovono riceveranno comunque delle critiche infatti io non devo dire non l'invidio perché è una posizione cioè vieni messo in una posizione molto critica presumo che si consulteranno con chi ha prodotto la serie insomma cercheranno un attimo o comunque anche tutti i gruppi LGBT presenti in Italia ma non c'è il problema è che nei vari gruppi LGBT non c'è accordo su come ci si debba muovere in questo caso per cui comunque se consulti un gruppo che ti dice di fare una certa cosa ti attirerai comunque o rischi di attirarti le ire di un altro gruppo per quello dico stavo guardando i tempi stiamo già andando lunghissimi ma è un tanto abbiamo praticamente finito faccio il riassunto no più che altro perché è un argomento così vasto che non riesci a condensare anche le cose più semplici in poco tempo quindi sì perché rischi comunque appunto di fare delle semplificazioni veramente eccessive a volte comunque quindi proprio il riassuntone ad esempio se noi appunto parliamo un istante delle persone trans che così chiudiamo l'argomento trans un istante ovviamente anche in questo caso essere trans non vuol dire avere un determinato orientamento sessuale perché se sei una persona trans appunto se da Mario sei passato a Luigia comunque a Luigia possono piacere le donne possono piacere gli uomini possono piacere entrambi quindi non vuol dire che una persona trans cioè c'è anche un po' quest'idea che la persona trans sia una persona omosessuale assolutamente no cioè ti piace anche in questo caso chi ti piace quindi abbiamo per esempio appunto Paul Strickland di 9-1-1 non star che è un uomo transessuale etero oppure appunto come abbiamo visto prima l'ex padre di Quagmire che poi è diventata praticamente Ida Davis eccolo qui prima e dopo appunto l'operazione che diventa la signora Ida Davis nei Griffin devo dire che appunto mi hanno detto che in alcuni casi la serie è stata molto offensiva le puntate che ho visto io in realtà sono state molto rispettose quindi poi anche lì dipende un po' probabilmente dalle puntate che abbiamo visto non so se appunto Seth Macfarlane poi ha dato una raddrizzata o meno o ci sono delle persone Allora io e Griffin sono un appassionato dei Griffin e posso dire che secondo me all'inizio è stato presentato un po' in maniera goliardica il personaggio cioè questo fare cambiare sesso al padre di Quagmire è stato fatto per far ridere per creare un qualche cosa di diverso insomma creare delle battute anche offensive nello stile Griffin è chiaro che successivamente lo si vede nelle stagioni successive avere anche una certa profondità nella sua personalità femminile quindi quella che lui ha scelto facendosi le operazioni e ci sono diverse puntate secondo me molto interessanti ma successivi ovviamente sì perché io credo di aver visto quelle perché le prime stagioni non le ho viste e oggettivamente in quelle mi sembrava che comunque la situazione fosse molto rispettosa cioè si faceva la sua vita e ci erano battute come però appunto Seth MacFarlane spara a zero su chiunque quindi MacFarlane si spara a zero su chiunque quindi ci stava quindi riassumendo praticamente secondo me faccio appunto torno un attimo a Deep Space Nine perché Deep Space Nine era infinitamente più avanti appunto secondo me di Discovery che ha questa idea della classificazione perché se noi prendiamo un personaggio come Odo che era in mutaforma Odo è stato visto praticamente poter assumere qualunque tipo di forma qualunque praticamente quindi tecnicamente Odo può essere un uomo donna appunto falco albero e appunto anche se poi alla fine ha questa relazione con Kira c'è una puntata in cui lui ha una relazione con un altro mutaforma palesemente maschio quindi comunque stiamo parlando del 98 e già a Discovery mangiavamo in testa scusate questo problema mio con Discovery non è solo tuo cioè Discovery sembra un po' una scopiazzatura di tante cose già viste e ben trattate molto più approfonditamente in Star Trek in tempi in cui non si spensava e soprattutto questa serie che è stata Discovery negli ultimi stagioni dalla quarta in poi ha parlato di cose assolutamente ancora attuali in maniera incredibilmente approfondita di Space Mine non ho Discovery eh sì di Space Mine vedi che mi sta spaleggiando il cervello sì sì no tanto abbiamo finito quindi possiamo così appunto guardatevi The Orville che secondo me su alcune tematiche è comunque infinitamente anche qui più avanti di Discovery anche se è sempre del nostro setbackparley un uomo che non rispetta nessuno facciamo un ultimo rapido riassunto di tutte le letterine dell'alfabeto LGBT eccetera eccetera che sono queste che vediamo sullo schermo quindi lesbiche gay bisessuali trans che come abbiamo visto transgender transessuali non binary queer che era praticamente un termine offensivo che poi è stato riappropriato e che nel dubbio uno dice sono queer che copre comunque tutto quello diciamo che troviamo interessuali di cui abbiamo parlato le persone asessuali oppure appostare anche per alleato quindi una persona appunto il famoso maschio etero che però dice no non è giusto avere dei pregiudizi two spirits che appunto è proprio qualcosa di cito relativo alle persone trans all'interno delle culture dei nativi americani cosa di cui io non so nulla e quindi non mi permetto di parlare non l'avevo neanche mai sentito quindi sì appunto per cui noi rifitiamo la alla lettera la lettera pansessuale che fondamentalmente è un po' l'evoluzione del bisessuale nel senso che ancora più anything goes se vogliamo e poi kink che sarebbero praticamente tutti quei gusti sessuali come il sadomaso il bondage eccetera che vengono appunto chiamati kink e rientrano quindi nella letterina k abbiamo finito abbiamo finito incredibile allora mi interrogo no 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 come mi interrogo no 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 io non ci ho capito nulla io lo ammetto io devo riprendere a mano questo video e rivedermelo tutto ok do ripetizioni faresti bene guarda secondo me sono di quelle argomentazioni da affrontare comunque ed è stato bello prendere spunto da questo gruppo di fantascienza come fantascientificast per approfondire questi argomenti e queste tematiche di cui spesso si sente parlare da lontano ma come ho detto essendo io un maschio etero bianco addirittura sono di quella specie base del livello occidentale che io non mi scontro con nessuno di questi ambienti quindi non conoscendoli in realtà cioè nel senso appunto partendo dal presupposto di quello che dicevamo prima che comunque per quanto ne puoi sapere Gino il panetti era omosessuale sì ma infatti mica mette l'indiscussione però io nel mio piccolo non essendomi mai non facendo parte appunto di queste minoranze non riesco a non sono mai venuto a contatto con queste realtà se non come dicevo scrivendo dei piccoli racconti miei tra l'altro non nato da quello scopo lì di parlare di una cosa omosessuale o in quel caso lì lesbico addirittura ma è proprio partito da un punto di vista fantascientifico immaginandomi un mondo in cui esistevano solo donne capito quindi non mi ero minimamente posto il problema dell'omosessualità o meno però è comunque interessante approfondire queste tematiche perché fanno comunque parte della vita di tutti i giorni di tutte le persone e non devono essere minimamente tenute da parte vanno capite conosciute non bisogna averne paura perché è questo l'importante non bisogna averne paura secondo me giuro non mordo io comunque ti ringrazio dopo magari se vuoi mettiamo anche nella descrizione di questo video qualche link per intracciare i tuoi dati magari qualche cosa che hai scritto o via dicendo così la gente si può informare e noi ci trovate appunto sul Fantascientificast il gruppo Telegram FSC Community e noi ci rivediamo alla prossima puntata direi ciao e grazie a tutto Verusca grazie dell'ospitalità più che altro ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti